Il Sartorio, vicepresidente di Medea, responsabile del centro studi, sono stati analizzati questa mattina anche i dati relativi al 2022 sugli accessi ai centri antiviolenza di Medea ad Alessandria e a Casale, riscontrando quale numero rispetto complessivo è raffrontato con gli anni precedenti. Ma oramai noi stiamo verificando che il trend si sta assestando a circa 200 casi nuovi all'anno, perché appunto quando noi parliamo di accessi dobbiamo tenere ben presente la differenza tra casi nuovi, quindi donne che per la prima volta si rivolgano da noi e i percorsi che seguiamo di durata più lunga degli anni precedenti. Negli ultimi tre anni i nostri accessi sono tra i 190 e i 200, abbiamo avuto il picco di 215 qualche anno fa con l'apertura del nuovo centro a Casale, ma in questi ultimi anni ci assistiamo sui 190-200. Quello che noi abbiamo riscontrato in questi due anni, anzi tre, è che si sta abbassando l'età delle donne che si rivolgono da noi, cioè cresce in percentuale la fascia sotto i 30 anni. Quindi questo secondo me è un indice molto importante perché dice come sia meno sopportabile nel tempo una situazione di violenza, quindi un rapporto di coppia segnato dai maltrattamenti. Se noi appunto pensiamo che la media è otto anni, perché una donna denunci la sua situazione, questo è un fatto positivo, quindi questa maggiore disponibilità a stare all'interno di una situazione violenta.